Capitolo dodicesimo All'alba del giorno dopo scesero al fiume per vedere se c'era qualche pesce nella rete. «Bisogna prendere il pesce prima che canti il cuculo», disse Ronia. Stava saltellando allegramente sul sentiero davanti a Birk. Era un sentiero stretto che scendeva a curve dalla montagna attraverso un bosco di giovani betulle. Ronia sentiva il profumo delle foglie di betulle appena nate. Era un profumo buono che sapeva di primavera, per questo era allegra e saltellava. Birk la seguiva, ancora mezzo addormentato. «Se ci sarà un pesce da prendere, pensi che troveremo la rete piena?» «In questo fiume ci sono i salmoni», disse Ronia. «Sarebbe strano se nella nostra rete non ne saltasse nemmeno uno. Sarà strano se non salterai tu a capofitto nel fiume, sorellina». «Sono i miei salti di primavera», disse Ronia. Birk rise. «Salti di primavera, già. È proprio il sentiero giusto per farli. Che sai che è stato il primo a tracciarlo?» «Forse Mattis», disse Ronia, quando rimaneva nella grotta degli orsi. «Gli piace il salmone. Gli è sempre piaciuto». Poi tacque. Decise di non pensare più a quello che piaceva o non piaceva a Mattis. Si ricordò il sogno che aveva fatto e decise di dimenticare anche quello. Ma il pensiero ritornava, come una mosca inesistente, senza lasciarla mai. Finché non vide il salmone guizzare, e luccicarono nella rete. Era un grosso salmone che li avrebbe nutriti per parecchi giorni. Tirandolo fuori dalla rete, Birk disse tutto soddisfatto. «Non morirei di fame, sorellina, te lo assicuro io». «Non prima dell'inverno», disse Ronia. «Ma c'era ancora tanto tempo all'inverno. Perché preoccuparsi?» Decise di non volerne più sapere dei pensieri insistenti come le mosche. Tornarono alla grotta con il salmone già pulito appeso a un bastone, trascinando contemporaneamente una bitulla sradicata dal vento. Con le cinghie avevano attaccato la bitulla alle loro cinture e con una coppia di cavalli da tiro davanti a un grosso carico di legna la trasportavano faticosamente su per il sentiero. Sarebbe servita per farne delle scodelle e altre cose utili. Così avevano pensato. Birk aveva tolto i rami alla bitulla, ma nel farro gli era sfuggito a di mano la scure. Stava sanguinando da un piede e lasciava dietro di sé tracce di sangue sul sentiero, ma non se ne curava. «Non c'è da preoccuparsi. Il sangue smetterà di uscire quando non avrà più voglia». «Non fare il gradasso», disse Ronia. «Forse un urso annuserà le tue tracce e si chiederà dove trovare un altro po' di quel sangue buono». Birk rise. «Glielo mostrerò con la lancia in mano». «Lo visa», disse Ronia pensierosa, «metteva sempre il muschio bianco secco sulle ferite. Sarà meglio che lo cerchi prima che ti venga in mente di ferirti un'altra volta». E così fece. Portò delle bracciate di muschio bianco dal bosco e lo mise a seccare al sole. Quando ebbe finito, Birk le offrì del salmone cotto sulla brace. E non fu l'ultima volta. Per molto tempo non fecero altro che mangiare il salmone e lavorare il legno per le scodelle. Spaccarlo non era difficile. Lo facevano a turni e non si ferivano mai. In poco tempo ebbero cinque bei pezzi che aspettavano di diventare scodelle, perché tante avevano deciso di farne. Ma già al terzo giorno, Ronia chiese. «Birk, secondo te cos'è peggio, il salmone alla brace o le vesciche alle mani?» Birk disse che non poteva rispondere perché erano due cose ugualmente orribili. «Ma lo so perché. Dovremmo avere degli altri attrezzi, con il coltello soltanto a un lavoro da schiavi». Ma non avevano altri attrezzi e a turno continuavano a intagliare, finché non fecero qualcosa che assomigliava a una scodella. «Non ne farò mai più in tutta la mia vita», disse Birk. «E adesso filerò il coltello per l'ultima volta. Dammelo!» «Il coltello?» disse Ronia. «Ce l'hai tu!» Birk scosse la testa. «No! Ce l'hai tu!» «Dammelo!» «Non ho nessun coltello», disse Ronia. «Sei sordo?» «Allora dove l'hai messo?» Ronia si arrabbiò. «Dove l'hai messo tu? L'hai adoperato per ultimo!» «Non è vero!» disse Birk. In silenzio, tutti arrabbiati, cercarono il coltello, dappertutto, dentro e fuori la grotta. Ma il coltello non c'era. Birk guardò Ronia freddamente. «Io credevo di aver parlato chiaro. Senza un coltello non possiamo cavarcela nel bosco.» «Allora dovevi stare più attento!» disse Ronia. «E sei un porco che dà sempre la colpa agli altri quando si mettono i pasticci.» Birk diventò palido dalla collera. «Sei sempre la stessa figlia di brigante. Non cambierai mai, lo so, e mi tocca vivere con te.» «Puoi farne anche a meno, brigante di borca!» disse Ronia. «Vivi pure con il tuo coltello, se riesci a trovarlo, e vai malora.» Lo lasciò piangendo di rabbia. Sarebbe andata nel bosco per stare lontana da lui. Non lo voleva vedere mai più. Mai più gli avrebbe rivolto la parola. Nel vederla sparire, Birk si incolleria ancora di più e si mise a gridare. «Che ti prendano le strigi! Con loro starai come a casa tua!» Vide il musco che ingombrava per terra. Era una trovata stupida, d'ironia e corrabile di detto a un calcio. Sotto il muschio c'era il coltello. Birk lo guardò a lungo prima di raccoglierlo. Avevano cercato tanto, nel muschio. Come mai adesso c'era? E come c'era andata a finire? Di chi era la colpa? Il muschio era colpa di Ronia. Era più che sicuro. E poi Ronia era così stupida e ostinata da non poterla sopportare. Altrimenti le sarebbe corso dietro per dirle che aveva trovato il coltello. Meglio che rimanesse nel bosco, invece, finché non si fosse stancata e non fosse ridiventata quella di prima. Affilò il coltello con cura e poi si mise a sedere tenendolo soddisfatto in mano. Era un ottimo coltello e non sarebbe mai più sparito. Sparita era invece la sua collera. Se n'era andata. Ormai doveva essere contento. Aveva il coltello. Ma Ronia non c'era. Era forse per questo che qualcosa gli erodeva stranamente dentro. Vivi pure con il tuo coltello. Così aveva detto. E si arrabbiò di nuovo. Dove sarebbe andata a vivere? Non gli importava. Poteva vagare, giravagare dove voleva. Ma se non fosse tornata alla svelta, peggio per lei. Perché la grotta degli orsi le sarebbe stata chiusa per sempre. Avrebbe voluto che lo sapesse. Ma non aveva nessuna intenzione di andarla a cercare nel bosco per dirglielo. Prima o poi sarebbe certamente tornata a pregarlo e scongiurarlo di poter restare. E allora? Gli avrebbe detto. Dovevi venire prima. Adesso è troppo tardi. Lo disse a voce alta per sentire l'effetto. E gli venne un brivido. Non erano parole per una sorella. Ma l'aveva voluto lei. Non era stato lui a mandarla via. Mentre l'aspettava, mangiò un po' di salmone. Il salmone era stato ottimo le prime tre, quattro volte. Ormai l'undicesima volta gli tornava in gole. Quasi non riusciva più a inghiottirlo. Ma era pur sempre del cibo. Cosa mangia invece che va in giro per i boschi? Cosa stava mangiando Ronia? Forse radici e foglie verdi? Se le trovava? Ma non gli importava. Poteva anche ridursi male andando avanti in quel modo. L'aveva scelto lei, altrimenti sarebbe tornata. Le ore passavano. Ed erano stranamente vuote senza Ronia. Birch non sapeva dove andare e che cosa fare. Senza di lei. Qualcosa lo rodeva dentro, sempre di più. Vide la nebbia salire dal fiume. Allora si ricordò di quella volta, tanto tempo prima, quando aveva lottato con i sottoterrestri per Ronia. Non avevano mai parlato insieme. Forse Ronia non sapeva di essere una di quelle persone che subiscono la malia dei sottoterrestri. Come si era infuriata quella volta. Le aveva dato un morso così forte alla guancia che aveva ancora una piccola cicatrice. Ma Ronia gli piaceva lo stesso. Già, gli era piaciuto a fine la prima volta che l'aveva vista. Ma lei non lo sapeva. Non gliel'aveva mai detto. E ora era troppo tardi. Ormai sarebbe vissuto da solo nella grotta, con il suo coltello. Perché Ronia le aveva detto una cosa tanto cattiva? Avrebbe volentieri buttato il coltello nel fiume se soltanto avesse potuto farla tornare indietro. Adesso lo sapeva. Spesso verso sera la nebbia saliva dal fiume, ma non c'era da preoccuparsi. Però, come poteva essere sicuro, si chiese che proprio quella sera non sarebbe salita fino ad avvolgere anche il bosco. Allora i sottoterrestri sarebbero forse usciti un'altra volta dalle loro buie cavità. E questa volta che avrebbe protetto Ronia dalle loro canzoni. Non importava più. Ma anche se aveva deciso che non gli importava, non riusciva a resistere. Doveva andare nel bosco. Doveva trovare Ronia. Fece una corsa da rimanere senza fiato. La cercò dappertutto, nei posti e nei sentieri dove credeva di poterla trovare. Urlò il suo nome finché ebbe paura della sua stessa voce e paura di attirare le curiose e crudeli strigi. Che ti prendano le strigi! Le aveva urlato dietro. E ora se ne vergognava. Forse era proprio quello che le strigi avevano fatto, perché Ronia non era da nessuna parte. O forse era andata a Castelmattis. Forse in quel momento era in ginocchio davanti a Mattis, lo pregava e scongiurava di poter tornare a casa e di essere di nuovo la sua bambina. non avrebbe mai pregato e scongiurato lui per tornare alla grotta degli orsi, no? Era di Mattis che aveva nostalgia, era chiaro, ma non aveva voluto che Birk se ne accorgesse. Chissà come era stata contenta di avere una scusa per lasciare la grotta degli orsi a suo fratello. Non voleva più la pena di cercare. Ci rinunciò. Non rimaneva che tornare alla sua grotta e alla sua solitudine per quanto amaro fosse. La sera di primavera era bella come un miracolo di Dio, ma Birk non se ne accorse. Non ne sentì il profumo e non sentì il canto degli uccelli. Non vide nell'erba e nei fiori. Sentiva soltanto dolergli dentro la sua malinconia. Improvvisamento di un cavallo che nitriva di dolore in lontananza. Corse in quella direzione mentre si avvicinava i nitriti disperati diventarono sempre più forti. Poi vide il cavallo in una piccola radura tra gli abeti. Era una cavalla e sanguinava molto da una ferita al petto. Alla vista di Birk ebbe paura ma non sfuggì. Si limitò a nitriere ancora più disperatamente come se chiedesse aiuto e protezione nel suo dolore. Poverina, disse Birk, che ti ha ridotto in questo modo? Nello stesso momento vide Ronia. Sbucò a velocità incredibile dal frutto degli alberi e gli corsi incontro con il viso bagnato di lacrime. Hai visto l'orso? Gli gridò. Oh Birk, ha preso il suo puledro e l'ha ucciso. Piangeva di disperazione ma Birk provava soltanto la più pazza felicità. Ronia era viva, l'orso non l'aveva uccisa né gli era stata portata via da Mattiso dalle strigi. Che gioia! Ronia si avvicinò alla cavalla e nel vedere quanto sangue stava perdendo sentì dentro di sé la voce di Lovisa e seppe subito quello che doveva fare. gridò Birk sbrigati vai a prendere il muschio bianco morirà di sanguata e tu? Non puoi rimanere qui con un orso alle calcagna? Corri! urlò Ronia devo rimanere con la cavalla ha bisogno di essere consolata ed il muschio bianco è subito! E Birk corse. Mentre non c'era Ronia rimase ferma con la testa della cavalla tra le mani. Murmurava tutte le parole di consolazione che le venivano in mente e la cavalla stava lì come se la ascoltasse aveva smesso di nitrire forse non aveva più la forza ogni tanto un tremito violento la percorreva tutta l'orso le aveva inferto una brutta ferita povera cavalla aveva cercato di difendere il suo puledro che invece era morto e forse sentiva sfuggire la vita poco a poco da ogni goccia di sangue che perdeva era ormai il crepuscolo però poco sarebbe scesa la notte e la cavalla non avrebbe più visto un altro mattino se Birk non fosse tornato in tempo e invece arrivò con le braccia colme di muschio l'apparizione più gradita della sua vita pensaronia e avrebbe dovuto dirglielo un giorno ma non in quel momento aveva fretta insieme premettero il muschio bianco sulla ferita e lo videro inzupparsi subito di sangue ne misero dell'altro e lo fermarono solidamente con le cinghe incrociate e ben strette sul pelto della cavalla che non si muoveva e li lasciava fare come se capisse quello che stava succedendo ma dall'abete più vicino sbucò improvvisamente la testa di un culotto che invece non capiva niente perché fare così? disse con desolazione ma Ronnie e i Birk furono contenti di vederlo perché voleva dire che l'orso si era allontanato gli orsi e i lupi sfuggivano alle strambe creature del bosco i culotti gli ombregnomi gli estrigi i griginani non avevano proprio nulla da temere da parte degli animali feroci soltanto il loro odore era sufficiente per far sparire un orso nel folto del bosco povero puledro disse il culotto non essere più finito non correre più lo sappiamo disse Ronnie tristemente passarono tutta la notte accanto alla cavalla una notte fredda e senza sonno ma non se ne preoccupavano sedevano vicini sotto un abete e parlavano tanto ma non della loro lite era come se l'avessero dimenticata Ronnie cercò di descrivere la scena dell'orso che uccideva il puledro ma dovette smettere non ce la faceva sono cose che succedono nel bosco Mattis come succedono in tutti i boschi disse Birk la notte fonda cambiarono il muschio sulla ferita della cavalla poi dormirono un poco e si svegliarono alla prima luce del giorno guarda non sanguina più disse Ronnie il muschio è ancora asciutto tornarono alla grotta portando con loro la cavalla che non potevano lasciare sola faceva fatica e soffriva a camminare eppure le seguiva docilmente non si arrampica sulla montagna nemmeno quando sta bene disse Birk dove possiamo sistemarla poco lontano dalla grotta nascosta tra betulle e abeti c'era la sorgente dove prendevano l'acqua la condussero lì bevi che devi rifarti il sangue disse Ronnie la cavalla beve avidamente e a lungo poi Birk la legò a una betulla la terremo qui finché non sarà guarita e qui non arriveranno gli orsi lo garantisco io Ronia accarezzò la cavalla non piangere disse l'anno prossimo avrai un puledro tutto nuovo in quel momento si accorse del latte che gocciolava dalle mammelle questo latte doveva sfamare il tuo puledrino disse Ronia adesso lo darai a noi invece prese dalla grotta la scudella di legno che finalmente sarebbe servita a qualcosa cominciò a mungere e la scudella si riempì subito per la cavalla fu un sollievo avere le mammelle più leggere e Birk fu contento del latte abbiamo un animale domestico disse e dobbiamo scegliere un nome come la chiameremo Ronia ci pensò sopra soltanto un attimo vorrei chiamarla Lia quando Mattis era piccolo aveva una cavalla che si chiamava così decisero che era un bel nome per una cavalla che non doveva più morire perché Lia sarebbe vissuta ormai si capiva poi le portarono dell'erba che avevano raccolto per lei e Lia la mangiò golosamente allora si accorsero di aver fame anche loro e decisero di risalire alla grotta per calmarla ma quando si allontanarono la cavalla girò la testa guardandoli inquieta non aver paura disse Ronia torneremo presto e grazie tante del latte che ci hai dato era un miracolo avere di nuovo del latte fresco lasciato freddarne l'acqua ghiaccia della sorgente si sedetterono nello spiato davanti alla grotta e mangiarono il loro pane e bevero il loro latte guardando il sole che sorgeva per illuminare un nuovo giorno peccato che abbiamo perso il coltello disse Ronia pensierosa allora Birk prese subito il coltello e glielo mise in mano per fortuna lo abbiamo ritrovato riposava sotto il muschio ad aspettare mentre noi due si stava litigando Ronia non parlò per molto tempo poi disse sai che cosa stavo pensando in questo momento pensavo che è molto facile distruggere tutto per delle sciocchezze da ora in avanti dovremmo stare attenti alle sciocchezze disse Birk ma sai che cosa stavo pensando io pensavo che tu vali più di mille coltelli Ronia lo guardò e sorrise adesso sei più matto del solito era quello che lo visa diceva Mattis qualche volta capitolo tredicesimo i giorni passarono la primavera diventò estate arrivò il caldo e arrivò anche la pioggia per giorni e notti cadde sul bosco il bosco beve la pioggia e diventò vivo e verde più che mai e quando la pioggia smise di cadere arrivò di nuovo il sole nel calore dell'estate il bosco emanava un profumo così intenso che Ronia non pote fare a meno di chiedere a Birk se credeva che potessero esistere altri boschi sulla terra con un profumo simile Birk disse che non lo credeva Lia era guarita da tanto tempo l'avevano lasciata libera ed era tornata a vivere fra i cavalli selvaggi ma continuava a dar il suo latte di sera il suo branco era sempre nelle vicinanze della grotta e ogni sera Ronia e Birk andavano nel bosco a chiamarla rispondeva con un nitrito per indicare dove era desiderosa di essere munta anche gli altri cavalli del branco smisero presto di temere i due piccoli esseri umani ogni tanto si avvicinavano e guardavano con curiosità la mongitura di Lia una cosa tanto strana non l'avevano mai vista furfante e selvaggio si avvicinavano spesso ed erano talmente curiosi che Lia abbassava gli orecchi e cercava di morderli ma non se ne preoccupavano affatto continuavano a fare i matti correndo e saltando insieme erano giovani e avevano voglia di giocare di improvviso partivano al galoppo e sparivano dentro il bosco la sera dopo ritornavano sempre ed era ormai possibile rivolgere loro la parola e perfino accarezzarli Ronia e Birka li accarezzavano con delicatezza e sembrava quasi che facesse loro piacere però avevano sempre un lampo di ironia negli occhi come se pensassero non ci beccate più ma una sera Ronia disse ho detto che voglio cavalcare e cavalcherò toccava a Birka mungere quella sera i furfanti e selvaggio erano lì vicino a guardare hai sentito quello che ho detto Ronia stava parlando a furfante contemporaneamente lo prese per la cagniera e gli saltò in groppa il cavallo la buttò a terra ma con la facilità della volta precedente perché Ronia era già preparata e sapeva con chi aveva a che fare furfante dovete fare il diavolo a quattro per liberarsi di lei ma tanto fece che ci riuscì e Ronia più in bocca era con un grido di rabbia si alzò mezza ammaccata stropicciandosi i gomiti doloranti un furfante sei e un furfante rimani disse ma ci riproverò ci puoi contare e ci riprovò tutte le sere dopo la mungitura sia lei che Birka tentarono di insegnare a furfante selvaggio a comportarsi meglio ma non c'era una lezione che servisse a qualcosa con quei mostri e dopo essere stata gettata a terra un bel po' di volte Ronia disse adesso non ho più nemmeno un pezzettino del mio corpo senza le vite e dolori detto uno spintone a furfante è tutta colpa tua porco ma furfante rimase tranquillo con l'aria di essere molto fiero di se stesso Ronia guardò Birka che stava ancora lottando con selvaggio era un cavallo difficile come furfante ma Birka era forte e si manteneva saldo in groppa già davvero si manteneva così saldo in groppa che selvaggio finì con lo stancarsi e si arrese guarda Ronia gridò Birka sta fermo selvaggio nitri nervosamente ma rimase fermo e Birka lo carezzò e gli disse tante belle parole che alla fine Ronia perse la pazienza beh insomma è un porco anche lui e lo sai la irritava che Birka l'avesse avuta vinta con selvaggio quando lei non ce l'aveva fatta con furfante e la irritò ancora di più che Birka nelle sere seguenti la lasciasse mungere da sola e le girasse intorno continuamente in groppa selvaggio mentre lei se ne stava in ginocchio munggeva tanto per farle vedere come cavalcava bene lì vi dure o no disse Ronia un giorno aspetta che abbia finito di mungere e vedrai come so stare a cavallo io e così fu furfante era lì e senza saperlo si ritrovò Ronia all'improvviso sulla groppa non la voleva assolutamente no e con tutte le sue forze cercò di liberarsi di lei si spaventò quando si accorse che non ci riusciva eh no quella volta non doveva riuscirci così aveva deciso Ronia con una presa sicura si reggeva sulla criniera stringeva le ginocchia si teneva ben salda furfante allora si infilò dritto nel fito del bosco erano scelli di abete di pino fischiarono negli orecchi di Ronia furfante andava a rotta di colla e Ronia gridava terrorizzata aiuto va tutto in malora aiuto ormai furfante aveva perso la testa correva furiosamente come se volesse schiantarsi e Ronia si aspettava di cadere e di rompersi il collo da un momento all'altro ma Birk stava arrivando con Selvaggio che era un corridore senza pari e subito fu al fianco di furfante e lo oltrepassò Birk sbarò la strada e furfante che stava arrivando a gran carriera dovete fermarsi di colpo mentre Ronia gli passò quasi sopra la testa ma si tenne forte si riassestò e furfante rimase con un palmo di naso aveva finito di fare il matto schiumava e tremava tutto ma Ronia lo accarezzava gli fece degli elogi smodati per la sua bella corsa e riuscì a calmarlo veramente ti dovrei picchiare disse è un miracolo se sono ancora viva è un miracolo ancora più grande se stiamo cavalcando disse Birk guarda questi due mostri hanno finalmente imparato a comportarsi e sanno anche chi comanda tornarono da lì a cavalcando tranquillamente al passo presero il loro latte e lasciarono furfante e selvaggio i loro giochi poi si avviarono verso la grotta Birk disse Ronia ti sei accorto che lì ha molto meno latte adesso sì forse aspetta un altro puledro rispose Birk sopra il pensiero se è così fra poco non avrà più nemmeno una goccia e allora merremo acqua di sorgente disse Ronia e fra poco resteremo anche senza pane la farina che Ronia aveva portato da casa era finita avevano cotte le ultime pagnotte sulle pietre calde del focolare nella grotta ce n'era ancora qualcuna ma presto sarebbero rimasti completamente senza di fame non avrebbero certo patito perché nel bosco c'erano tanti stagni pieni di pesce e gli uccelli non mancavano era sempre possibile catturare qualche gallo di montagna in caso di fame Ronia raccoglieva le erbe e le foglie verdi che si potevano mangiare come aveva imparato dall'ovisa e poi erano già mature le fragole erano tante rosse e occhieggiavano in ogni angolo del bosco là dove gli albi erano stati abbattuti dal vento e tra poco sarebbero maturati anche i mirtilli no non patiremo la fame disse Ronia ma il primo giorno senza pane senza latte non mi piacerà e quel giorno arrivò ancora prima che se lo aspettassero fedele Lia rispondeva puntualmente quando la chiamavano sul far della sera ma non desiderava più di essere munta si vedeva un giorno Ronia riuscì a mungere soltanto poche gocce e Lia fece capire chiaramente che ne aveva abbastanza Ronia le prese allora la testa fra le mani e la guardò negli occhi grazie Lia per tutto questo tempo l'estate prossima avrai un altro puledro lo sai e latte tornerà ma sarà per il tuo puledro non per noi Ronia carezzò la cavalla convinta che Lia capisse le sue parole e poi disse a Birk ringraziola anche tu e Birk lo fece rimasero a lungo con lei e quando la lasciarono Lia li seguì per un po' nella chiara notte d'estate era come se avesse capito che tutto era ormai finito che erano finite tutte quelle cose strane che aveva provato e che non assomigliavano affatto alla sua vita di cavalla selvaggia i piccoli esseri umani che avevano fatto tutte quelle cose strane stavano lasciandola e rimase per un po' a guardarli finché non sparirono tra gli alberi poi tornò al suo branco la rividero ogni tanto la sera quando andavano a cavalcare e se gridavano il suo nome rispondeva con un nitrito ma non lasciò mai più il suo branco per raggiungerli era una cavalla selvaggia e non sarebbe mai diventato un animale domestico furfante e selvaggio arrivavano invece al galoppo appena vedevano Ronnie e Birk ormai non cercavano di meno che fare le gare di corsa con i loro cavalieri sulla groppa Ronnie e Birk si divertivano moltissimo durante quelle lunghe cavalcate avanti e indietro nel bosco ma una sera una strige dette loro la caccia i cavalli impazzirono di terrore e non si lasciarono più comandare né guidare a Ronnie e Birk non rimase altro che buttarsi a terra e lasciarli correre senza i loro cavalieri i due cavalli non avevano più niente da temere erano gli uomini che le strige odiavano e ai quali volevano fare del male non gli animali del bosco Ronnie e Birk erano in pericolo scapparono terrorizzati ciascuno da una parte diversa la strige non poteva prenderli tutti e due ma loro sapevano che lei stupida com'era avrebbe tentato e così si salvarono quando la strige tentò di prendere Birk Ronnie fece in tempo a nascondersi e fu peggio per Birk ma quando la strige infuriata tentò di cercare Ronnie e si dimenticò per un attimo di Birk Birk si infilò in fretta fra due grandi massi rimase lì a lungo aspettandosi ad ogni momento di essere ritrovato ma per le strigi quello che spariva dalla loro vista non esisteva più erano fatte così da quel momento non esiste più nessun essere umano al quale poter cavare gli occhi e la strige con furore volò verso le montagne per andare a sfogarsi con tutte le sue cattive sorelle Birk la vide sparire e quando fu sicuro che non sarebbe più tornata chiamò Ronia e Ronia uscì da suo nascondiglio sotto un abete ballarono per la felicità di ritrovarsi sani e salvi per fortuna nessuno di due era stato graffiato a morte dalla strige e trasportato in qualche grotta sulla montagna per essere tenuto prigioniero tutta la vita nel bosco Matis non si deve aver paura disse Ronia ma con una strige che ti sbatte le ali sugli orecchi è un po' difficile non averne furfante e selvaggio erano scomparsi e perciò dovevano fare a piedi tutta la lunga strada fino alla grotta degli orsi posso camminare anche tutta la notte se le strigine non mi girano intorno disse Birk e camminarono nel bosco tenendosi per mano continuando a parlare felici e contenti dopo tutta quella paura era ormai cominciato il crepuscolo era una dolce sera d'estate e si dissero com'era meraviglioso poterla godere anche se esistevano le strigi com'era bello vivere in libertà nel bosco di giorno e di notte sotto il sole la luna e le stelle e al lento cambiamento delle stagioni durante la primavera appena trascorsa l'estate che stavano vivendo e l'autunno che presto sarebbe arrivato ma l'inverno disse Ronia poi tacque vedevano culotti ombrignomi griginani apparire e scomparire intorno e ogni tanto curiosare dietro gli abeti e i massi le strambe creature del bosco disse Ronia vivono tranquillamente anche d'inverno poi tacque ancora sorellina siamo in estate adesso disse Birk e Ronia lo sapeva e lo sentiva che è estate quest'estate la porterò dentro di me tutta la vita disse Birk guardò il bosco e la luce del crepuscolo e si sentì strano dentro ma il perché non lo sapeva non capiva che la pace e la bellezza dell'estate e null'altro gli davano quella sensazione simile quasi a un piccolo dolore al petto quest'estate disse e guardò Ronia sì questa estate me la porterò dentro anch'io per tutta la vita è così arrivarono alla grotta degli orsi a casa loro e sullo spiazzo li stava aspettando Cucco capitolo quattordicesimo Cucco era lì con il suo naso schiacciato la barba e i capelli arrufati così come Ronia lo conosceva da sempre e fu per lei in quel momento la cosa più bella che avesse mai visto con un grado si buttò fra le sue braccia Cucco oh sei tu e come come sei venuto era così felice che balbettava che bel panorama avete da qui disse Cucco si vede il fiume e anche il bosco Ronia rise sì sì si vede il fiume e anche il bosco è per questo che sei venuto no Lovisa mi ha mandato con il pane disse Cucco aprì la sua sacca di cuoio e tirò fuori cinque grosse pagnotte Ronia gridò di nuovo Birk hai visto il pane abbiamo il pane preso una pagnotta in mano ne sentì il profumo e le vennero le lacrime agli occhi il pane di Lovisa avevo ormai dimenticato come buono spezzò il pane e se ne riempì la bocca voleva darne anche a Birk ma Birk era nero e senza dire una parola senza accettare nemmeno il pane sparì nella grotta già Lovisa ha calcolato che ormai dovevi essere rimasto senza pane disse Cucco Ronia masticava il gusto del pane era meraviglioso in bocca e le fece venire nostalgia di Lovisa ma era l'ora di interrogare Cucco e come ha fatto a sapere Lovisa che sta nella grotta degli orsi Cucco sbuffò credi che tua madre sia una stupida? se non eri qui dove potevi essere? e poi la guardò pensieroso eccola lì la loro Ronia la loro piccola bella Ronia che continuava a mangiare pane come se il pane fosse l'unica cosa che chiedeva alla vita ora doveva compiere la sua missione Lovisa le aveva detto di compierla con furbizia e questo lo preoccupava perché Cucco non era davvero particolarmente furbo Ronia disse con prudenza non ha intenzione di tornare a casa e sentì un rumore dentro la grotta c'era qualcuno in ascolto che voleva farlo sapere a Ronia ma Ronia in quel momento si occupava soltanto di Cucco aveva tante cose da chiedergli tante cose da sapere era seduta accanto a lei ma sembrava quasi che non riuscisse a guardarlo mentre lo interrogava guardava invece il fiume il bosco e fece le sue domande così a bassa voce che Cucco faceva fatica a sentirla che c'è di nuovo a Castelmattis e Cucco rispose e disse la verità c'è tristezza a Castelmattis ecco cosa c'è di nuovo torna a casa Ronia Ronia continuava a guardare il fiume e il bosco l'ovisa ti ha mandato qui per questo Cucco a noi sì senza di te si sta male Ronia tutti aspettano che tu ritorni a casa guardando il fiume e il bosco Ronia chiese sottovoce e Mattis anche lui aspetta che io ritorno a casa Cucco bestemmiò quella bestia del diavolo chissà che cosa pensa e che cosa aspetta ci fu un attimo di silenzio e poi Ronia chiese parla mai di me Cucco si dimenò era arrivato il momento in cui doveva tirare fuori tutta la sua furbizia per questo stette zitto dimmi la verità disse Ronia mi nomina mai no disse Cucco controvoglia e nessuno può nominarti davanti a lui maledizione aveva detto proprio quello che gli ho visa gli aveva detto di tacere altro che furbizia guardò Ronia con occhi imploranti ma andrà tutto bene piccolina basta che tu torni a casa Ronia scosse la testa non tornerò mai a casa no se non sarà di nuovo la figlia di Mattis questo saluto gli puoi portare che risuoni in tutto Castelmatis grazie tante disse Cucco è un saluto che non avrebbe il coraggio di portare nemmeno Zuccaper Zuccaper raccontò Cucco era stato peggio del solito ultimamente e perché non sarebbe dovuto stare peggio se tutto il resto andava così male Mattis urlava e strepitava dalla mattina alla sera non gli andava bene niente e anche il brigantaggio andava malissimo tutto il bosco era pieno di gendarmi Pait era stato catturato e viveva di pane e acqua nella prigione della gendarmeria erano con lui due uomini di borca e si diceva che il comandante avesse giurato che tutti i briganti del bosco Mattis sarebbero stati catturati e avrebbero avuto la giusta punizione entro la fine dell'anno che cosa voleva dire la giusta punizione si chiedeva Cucco forse è la morte ha riso qualche volta ultimamente Cucco la guardò con stupore chi? il comandante? sto parlando di Mattis disse Ronia e Cucco le giurò che nessuno aveva più sentito ridere Mattis da quella mattina in cui Ronia sotto i suoi occhi aveva saltato la bocca dell'inferno Cucco doveva andare prima che si facesse buio doveva tornare a casa e si preoccupava già per quello che avrebbe dovuto dire all'ovisa per questo ci riprovò un'altra volta Ronia vieni a casa devi farlo torna a casa ti prego Ronia scosse la testa e poi disse salutami lo visa e ringrazia la mille volte per il pane Cucco mise frettolosamente la mano nella sacca caspita ho anche un pacchetto di sale per te l'avrei fatta bella se l'avessi riportato indietro Ronia prese il pacchetto una madre che pensa proprio a tutto sa quello che ci vuole per vivere ma come faceva a sapere che noi eravamo rimasti con un pizzico soltanto forse una madre lo sente suggerì Cucco quando manca qualcosa di necessario alla sua bambina soltanto una madre come lo visa disse Ronia rimase ferma a lungo a guardare Cucco che si allontanava lo vide superare agilmente lo stretto passaggio sul fianco della montagna e solo quando sparì dalla sua vista entrò nella grotta e così non sei andata con lui da tuo padre disse Birk era già sdraiato sul suo giaciglio Ronia non poteva vederlo al buio ma sentì le parole che aveva detto per provocarla non ho nessun padre disse e se non stai attento non avrò nemmeno un fratello scusami sorellina sono stata ingiusto ma non posso indovinare che cosa ti passa per la mente sì rispose Ronia nel buio mi passa per la mente che sono vissuta per undici inverni e che morirò nel dodicesimo e avrei tanto voluto vivere ancora lo capisci o no dimentica il tuo inverno disse Birk adesso c'è l'estate e l'estate c'era ogni giorno che passava era sempre più estate la più bella la più calda di tutte le estati che ricordavano ogni giorno facevano il bagno nell'acqua fredda del fiume nuotavano e facevano tuffi come due lontre e si facevano trascinare dalla corrente fino al punto in cui il fragore della cascata del calcagno diventava così assordante che si accorgevano della vicinanza del pericolo la cascata del calcagno in quel punto il fiume con tutta la sua massa d'acqua faceva un tale salto che nessuno sarebbe sopravvissuto a un viaggio del genere Ronia e Birk sapevano bene dove incominciava il pericolo appena vedo il masso del calcagno spuntare dall'acqua diceva Ronia allora so che si rischia la vita il masso del calcagno era un grosso scoglio in mezzo al fiume poco distante dalla cascata per Ronia e Birk era un punto di riferimento voleva dire che dovevano raggiungere la riva ed era difficile e faticoso poi se ne stavano sdraiati senza fiato e con le labbra blu dal freddo su una spiaggetta facendosi riscaldare dal sole mentre guardavano con curiosità le lontre che nuotavano e si tuffavano presso la riva senza mai stancarsi quando l'aria si rinfrescava verso sera andavano nel bosco per cavalcare furfante e selvaggio non si erano fatti vedere per un po' di tempo la strigia le aveva talmente spaventati che temevano anche loro che li cavalcavano in quel momento e la paura era durata parecchio ma ormai sembrava che avessero dimenticato tutto arrivavano al galoppo e si lasciavano di nuovo montare volentieri Ronia e Birk li lasciavano correre fino a quando non erano stanchi poi facevano tranquillamente al passo lunghi giri nel bosco una tiepida sera d'estate come questa è fatta per cavalcare disse Ronia e pensò perché non è sempre estate nel bosco perché non posso essere completamente felice amava il suo bosco e quello che la circondava gli alberi gli stagni i laghetti e i torrenti che oltrepassava a cavallo i massi di coperti di muschio i posti delle fragole dei mirtilli gli animali e gli uscelli perché a volte la vita era così triste e perché doveva sempre tornare l'inverno a cosa pensi sorellina chiese Birk sto pensando che sotto quell'enorme masso abitano gli ombri gnomi rispose eronia li ho visti ballare una volta in primavera gli ombri gnomi e anche i culotti mi piacciono ma non i griginani e le estrigi ricordatelo certo e a chi piacciono quelli disse Birk ormai si faceva sempre buio il tempo delle noti chiari era finito di sera stavano seduti accanto al fuoco e guardavano le stelle palide accendersi in cielo e man mano che il buio era più profondo le stelle diventavano sempre più numerose e brillavano con una luce più intensa sopra il bosco il cielo era ancora estivo ma Aronia sapeva che cosa dicevano le stelle presto arriverà l'autunno sì odio le estrigi disse è strano che ci abbiano lasciato in pace per tanto tempo non devono nemmeno sapere che abitavano nella grotta degli orsi è solo perché le loro grotte sono sulle montagne dall'altra parte del bosco e lontano dal fiume disse Birk e i griginani per una volta tanto se ne saranno se ne saranno stati zitti altrimenti avremmo già avuto le strigi addosso chissà da quanto tempo Ronny era brividi è meglio non parlare di loro disse potremmo chiamarle e scese la notte e poi fu di nuovo mattina e la giornata era calda come al solito Ronny e Birk fecero il bagno arrivarono le strigi non una o due ma un intero stormo crudele in un momento riempirono l'aria volavano sopra il fiume gridando e strepitando iiii belli piccoli bambini nell'acqua il sangue scorrerà iiii tuffo tironia urla Birk si tuffarono e notarono sott'acqua riemergendo ogni tanto per respirare quando videro il cielo fu scarsi di strigi sempre più numerose capirono che non c'era più speranza non c'era via di uscita le strigi provvedono a non farsi più preoccupare dell'inverno pensava Ronnie amaramente mentre ascoltava quelle grida che non finivano mai belli piccoli bambini nell'acqua ora vi graffieremo ora il sangue scorrerà iiii alle strigi piaceva spaventare e tormentare prima dell'attacco più tardi avrebbero graffiato e ucciso ma intanto erano altrettanto divertente volteggiare gridare e strepitare aspettavano il segno della grande strige la più cattiva e la più selvaggia che stava facendo i suoi ampi giri sopra il fiume non aveva nessuna fretta non c'era che da aspettare presto sarebbe stata la prima ad affondare i suoi artigli in uno di quei due che si agitavano nell'acqua chissà forse avrebbe preso quella con i capelli neri oppure quello con i capelli rossi che in quel momento non riusciva a vedere ma che sarebbe certamente riemerso pronto per tanti artigli accuminati che lo aspettavano Ronnie fece un tuffo e risalì di nuovo per riprendere aria i suoi occhi cercavano dove era Birk? non lo vedeva non lo vedeva da nessuna parte era disperata dove era? era forse affogato l'aveva lasciata sola con le strigi Birk urlò piena di angoscia Birk dove sei? allora la grande strige più in bosso di lei eronia e chiuse gli occhi Birk fratellino come hai potuto lasciarmi sola nell'orrore degli orrori? iiii gridò la grande strige il sangue scorrerà ma preferiva aspettare ancora un poco soltanto un poco e poi iiii fece un altro grande giro sopra il fiume all'improvviso Ronia udì la voce di Birk Ronia vieni subito una bettulla buttata giù dal vento ancora con le foglie verdi galleggiava seguendo la corrente e Birk vi si steneva aggrappato Ronia di tanto in tanto vedeva comparire la sua testa sopra l'acqua ma c'era non l'aveva lasciata sola che sollievo ora doveva sbrigarsi altrimenti la corrente l'aveva trascinata troppo lontano si immerse e notò disperatamente e lo raggiunse Birk tese una mano la tirò verso di sé e finalmente furono aggrappate lo stesso ramo nascosti alla meno peggio dalle foglie di betulla Birk ansiamo Ronia credevo che tu fossi affogato non ancora disse Birk ma fra poco senti la cascata del calcagno e Ronia sentì lo scroscio della massa d'acqua la voce della cascata del calcagno la corrente li stava trascinando verso quel terribile salto erano già troppo vicini Ronia lo sapeva e lo vedeva la velocità aumentava e anche il fragore adesso poteva sentire l'inesorabile risucchio della cascata presto prestissimo sarebbero stati trascinati verso un viaggio senza ritorno desiderò essere più vicino a Birk si spostò sotto le foglie verso di lui sicura che Birk provasse quello che provava lei meglio la cascata del calcagno che le strigi Birk le mise un braccio sulle spalle qualsiasi cosa fosse successa sarebbero state insieme fratello e sorella niente li avrebbe divisi ma le strigi li cercavano furibonte dove erano i bambini belli e raggiunti il momento di graffiare perché i bambini belli non c'erano c'era soltanto la cima di un albero fronzuto trascinata velocemente dalla corrente lungo il fiume le strigi non potevano vedere cosa c'era sotto i suoi rami verdi e rabbiosi e folteggiavano cercando e cercando ancora intanto Ronia e Birk erano già stati trascinati lontano e non sentivano più le grida sentivano soltanto il fregore che diventava sempre più forte e sapevano che ormai era finita sorellina disse Birk Ronia non sentì le parole ma capì dal movimento dalle labbra anche se nessuno dei due poteva sentire una parola continuavano a parlare parlavano di quelle cose che bisognava dire prima che sia troppo tardi di quanto è bello amare qualcuno tanto profondamente da non temer nemmeno il peggio di questo parlavano anche se non riuscivano a sentire una parola sola poi non parlarono più si tenero stretti e chiusero gli occhi all'improvviso ci fu un colpo violento che li riscosse la betula aveva urtato il masso del calcagno e l'urto l'aveva fatta girare cambiò direzione e prima che le correnti potessero riprenderla si era già spostata un bel po' verso la riva Ronia proviamo urlò Birk la staccò dal ramo al quale si era ancora aggrappata e subito si trovarono tutti e due in mezzo ai gorghi spumeggianti ora ognuno doveva lottare per sé combattere per la sua vita le correnti senza pietà che con tutta la loro forza volevano trascinarli nella cascata del calcagno vedevano le acque tranquille presso la riva erano così vicine vicine ma tuttavia troppo lontane la cascata del calcagno vincerà pensava Ronia non ce la faceva più aveva voglia di mollare di lasciarsi affondare di abbandonarsi alla corrente e di sparire nella cascata ma davanti a lei c'era Birk che girò la testa e la guardò continuamente si voltava a guardarla e così Ronia fece un altro sforzo e continuò a sforzarsi fino a non farcela proprio ma ormai era nelle acque tranquille e Birk la tirò a riva poi non ce la fece più nemmeno lui ma dobbiamo devi ansimo con la forza della disperazione si trascinarono sulla riva e là sotto il sole caldo si addormentarono senza nemmeno rendersi conto di essere salvi il sole era già calato quando tornarono alla grotta degli orsi a casa loro e sullo spiazzo li stava aspettando lo visa non ce nemmeno se non non ce nemmeno Grazie a tutti